L'articolo 15 della nostra Costituzione sancisce l'inviolabilità della libertà e della secretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La limitazione della libertà e della secretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. La libertà di comunicare non può prescindere dalla tutela della riservatezza del contenuto o delle comunicazioni. Le comunicazioni costituzionalmente protette vanno dalle forme di comunicazioni classiche, come ad esempio le buste suggellate, le cartoline contenute in buste non chiuse, i pacchi postali, le comunicazioni con segni simbolici e le conversazioni, fino ad arrivare alle forme di comunicazioni più recenti, come i messaggi di posta elettronica e le comunicazioni scambiate in chat o in videoconferenza se avvengono in forma 1 a 1. Nell'articolo 15 della Costituzione abbiamo due tipi di riserve, la riserva di legge assoluta e la riserva di giurisdizione. Con la riserva di legge assoluta i casi di limitazione della libertà e della secretezza delle forme di comunicazione devono essere individuate e regolate assolutamente soltanto dalla legge. Invece con la riserva di giurisdizione l'emanazione di fatto concreta dei provvedimenti restrittivi e motivati spetta solo all'autorità giudiziaria. La libertà di comunicare spetta a chiunque, ai cittadini, agli straniere e agli apolidi, alle persone sia fisiche che giuridiche, sia al mittente che al destinatario. La libertà di Waldar